Allora adesso saliamo giù di... andiamo su di qua e andiamo fuori nel cortiletto lì dietro, dove è pronto per mangiare, anzi sarà bello pronto. In fianco alla tensiostruttura c'è il laboratorio messo a punto dal professor Prae dove si fa la verifica del crash test. Lo spiegherai lì su posto, noi veniamo subito, adesso si va a turno a mangiare e veniamo a vedere il crash test. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.